In questi quattro anni abbiamo investito più di 8,4 milioni di euro in quattro anni. Per il bilancio del Consiglio regionale è tanto sui nostri territori per dare risposte soprattutto alle ragazze e ragazzi più giovani. Lo abbiamo fatto riducendo i costi della politica, efficientizzando, gestendo meglio. Si può fare ed è un lavoro collettivo. Ringrazio tutto l'ufficio di presidenza, ringrazio tutti i capigruppo, tutte le forze politiche, le colleghe e i colleghi consiglieri regionali. C'è un numero che io voglio sottolineare, 95% di presenze, un numero elevatissimo anche se paragonato ad altri consiglieri regionali. Io in ognuno di loro vedo l'impegno senza distinzione tra maggioranza e minoranza per le proprie comunità, l'attenzione agli altri. Un anno di attività in Consiglio regionale, il quarto della undicesima legislatura e adesso manca un anno alle nuove elezioni. Il Presidente Antonio Mazzello, l'ufficio di presidenza, fanno il bilancio di altri 12 mesi di attività. 12 mesi particolarmente difficili, segnati dalla scomparsa di un collega, il consigliere Massimiliano Pescini. È stato un anno difficile, eventi alluvionali, tanti purtroppo hanno sconvolto la nostra regione provocando anche diversi morti. È stato un anno difficile anche per la sicurezza nei luoghi di lavoro, pensate quanto è accaduto in via Mariti, ci porta a porci tante domande e a cercare tante risposte. È stato un anno che ha visto purtroppo nella nostra comunità perdere una di quelle persone che ci sanno dire cos'è la buona politica, Massimiliano Pescini. Se n'è andato un amico prima ancora che un collega. Massimiliano rappresentava davvero la politica quella bella, quella fatta nei territori, quella fatta di ascolto, di confronto. E ne sentiamo tutti la mancanza ma allo stesso tempo viviamo, come dire, il suo esempio come esempio di impegno nelle istituzioni. Noi abbiamo voluto dedicare quest'anno di mandato proprio a lui. Alla presentazione del resoconto nell'ultimo anno di attività altri consiglieri e membri dell'ufficio di presidenza. Così il vicepresidente Stefano Scaramello. Un anno molto positivo per l'attività del Consiglio regionale, per l'attività delle commissioni, per l'ufficio di presidenza. Un'ottima collaborazione con il nostro presidente Antonio Mazzeo e con tutto l'ufficio che ha dimostrato quanto il Consiglio regionale sia presente anche in tante iniziative di rappresentanza e non solo di promozione delle nostre aziende. Se pensiamo all'iniziativa di San Francisco, se pensiamo al rapporto con l'Europa, alle iniziative a favore dei giovani, alla riscoperta della loro identità, ragazzi e ragazze che sono diventati protagonisti della relazione con il Consiglio regionale, le iniziative della memoria, il riconoscimento dei valori dell'identità toscana, della nostra storia, partendo da quella degli etruschi e non solo, gli 80 anni della liberazione, tante questioni che hanno portato e visto il Consiglio regionale della Toscana protagonista, tanto sostegno al mondo delle associazioni, al mondo della cultura, dello sport e delle amministrazioni comunali. Via libera maggioranza la proposta di legge in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza. La proposta, primo firmatario e capogruppo del PD, Vincenzo Ceccarelli, dà stabilità ai finanziamenti e agli istituti che si curano di promuovere la conservazione dei valori dell'antifascismo. In particolar modo, dal 2025, il contributo annuale all'Istituto Storico della Resistenza in Toscana sarà di 250 mila euro, 210 mila agli istituti storici a carattere provinciale, 90 mila alla Fondazione, Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza, infine 20 mila alla Federazione Regionale Toscana delle Associazioni Antifasciste della Resistenza. Sicuramente sì, siamo negli 80 anni dalla liberazione e credo che cogliere questo momento per strutturare le risorse da dare agli istituti storici della resistenza sia un atto doveroso, soprattutto da parte di un ente, la regione che ha nel proprio statuto l'antifascismo. Ebbene, in Toscana gli istituti storici della resistenza, sia quello regionale che quelli provinciali, sono i custodi di questi valori, sono i custodi di tutta la documentazione che ricorda quei momenti, sono quelli che fanno ricerca, sono quelli che promuovono, oltre che custodire, la cultura dell'antifascismo, la cultura della pace, la cultura della non violenza, la cultura della solidarietà. Questa legge che noi abbiamo promosso è stata sottoscritta anche dai 5 Stelle e anche da Italia Viva. Ho visto che di fatto poi nessuno ha votato contro, anche se ci sono state le non partecipazioni al voto e delle astensioni da parte della minoranza. Quindi credo una bella pagina. Assieme al PD la legge passa anche col voto del Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Questo è un impegno, un impegno morale che io personalmente per primo, va detta la verità, ho assunto, poi mi fa piacere che anche i colleghi del Partito Democratico lo abbiano assunto, abbiano firmato la legge, io ho firmato il loro testo, perché era corretto strutturare in termini finanziari un finanziamento che desse solidità economica all'Istituto della Resistenza e soprattutto favorisse la divulgazione di valori, la conoscenza, la relazione con le nuove generazioni. La Resistenza è un valore costituzionale, è un valore statutario della regione toscana, passano gli anni, sono 80 anni, si rischia altrimenti che con il tempo quello sforzo, quella dimensione valoriale possa essere persa, si possa affevolire. Nel centro-destra c'è il sì di Forza Italia, voterò a favore, dice il capogruppo Stella, non c'è equivoco su questo tema. Da che parte stare? Non votano le altre opposizioni, è una questione di metodo, spiegano. Ma senza discutere minimamente il merito e il valore storico della Resistenza, abbiamo espresso un voto del non voto in riferimento al metodo della questione. Avevamo letto anche noi di Vaninokiti questo luglio che incentivava la regione toscana a rifinanziare le iniziative dell'Istituto Storico della Resistenza. Noi riteniamo, visto che è stato fatto anche un mese dal bilancio francamente, che questo tipo di impostazione potesse essere discussa all'interno di una più vasta richiesta di risorse, viste quelle stanziate in questo caso, per ben altre attività e promozioni culturali. Oltre a questa ovviamente. Chiaramente ci sono degli orecchi dei quali non si ascolta e quindi noi conseguentemente siamo stati sul non voto. Approvato a maggioranza l'ordine del giorno presentato dal portavoce dell'opposizione, Marco Landi. Il voto d'astenzione è motivato dal fatto che non c'è metodo su questo finanziamento che è stato dato e soprattutto dobbiamo capire anche dove andranno a finire questi soldi e appunto in che modo. Noi abbiamo proposto un ordine del giorno perché crediamo che il valore storico, culturale di quello che rappresentano gli istituti storici della resistenza, in particolare l'istituto storico della resistenza toscano e dell'età contemporanea, perché così si chiama, perché ci sono anche delle importanti valutazioni e approfondimenti da fare su quello che rappresentano per esempio gli anni di piombo e tutto il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Però noi crediamo sostanzialmente che questi istituti innanzitutto debbano poter vivere perché sono dei punti importantissimi di ricerca, di studio per i nostri studenti che vengono anche da tutta Italia a preparare i loro esami, le loro tesi anche nei nostri istituti appunto della resistenza e dell'età contemporanea. In particolare quello di Firenze purtroppo è in una condizione dove da anni sappiamo che dovrebbe cambiare ubicazione perché questi testi, questi volumi importantissimi sono a rischio e quindi magari si spendono tanti soldi per dover garantire la sicurezza. Nel dibattito è intervenuto anche il Presidente del Consiglio regionale. È stata una legislatura in cui noi abbiamo voluto dire con chiarezza che la Toscana è una regione antifascista, lo abbiamo fatto subito, nel 2022 con la modifica dello statuto facendolo diventare l'antifascismo uno dei principi dell'ordinamento regionale. Lo abbiamo ripetuto nei finanziamenti anche con i risparmi dei costi della politica, lo abbiamo fatto con la visita del Presidente Mattarella in uno dei luoghi delle stragi più efferate del nazifascismo in Toscana, Civitella Valdichiana. E lo facciamo ora, lo facciamo con questa norma con cui finanziamo per 570 mila euro il lavoro degli istituti storici della Resistenza. Come c'è nata quest'idea di finanziare di più? È in linea con tutto questo lavoro, ma le parole del Presidente Mattarella ci hanno guidato. Il Presidente Mattarella ha detto non c'è futuro senza memoria. Con piacere che oggi la nostra regione saluta i nuovi tutori e le nuove tutrici volontarie di minorenni stranieri non accompagnati, formati da questo garante con un apposito corso di formazione ed una relativa selezione finale. Sono 46 nuovi tutori volontari per minori stranieri non accompagnati che hanno partecipato, superando la selezione finale, allo specifico corso di formazione organizzato dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana. A Palazzo Bastoggi, cerimonia di consegna degli attestati, dove, oltre alla stessa garante, erano presenti il Presidente dell'Assemblea Legislativa e le responsabili dei Tribunali per i minorenni di Firenze e Genova. I tutori e le tutrici volontarie di minori stranieri non accompagnati sono cittadine e cittadini che a titolo volontario e gratuito presteranno il loro servizio nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione delle persone di minorità straniera in qualità di rappresentanti legali e di figure di riferimento per le necessità e i bisogni di tali persone che, come sappiamo, sono persone particolarmente vulnerabili. Sono i cosiddetti vulnerabili tra i vulnerabili perché minorenni, perché soli e perché stranieri. Il loro ruolo, aggiunge Camilla Bianchi, rappresenta un significativo esempio di cittadinanza attiva. Secondo i dati aggiornati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Toscana sono 834 i minori stranieri non accompagnati provenienti prevalentemente da Egitto, Ucraina, Gambia e Tunisia. Oggi sono qui per dire grazie a queste donne, a questi uomini che in maniera volontaria decidono di destinare parte del loro tempo per i minori stranieri non accompagnati. Chiudiamo gli occhi e pensiamo ad una bimba, ad un bimbo che arrivano nel nostro territorio, che arrivano in Italia. A volte c'è qualcuno che con la cultura dell'allontanare non li fa sentire a casa propria. Noi invece vorremmo che queste ragazze e questi ragazzi si sentissero parte di una comunità, potessero crescere aiutati e supportati da altri cittadini del nostro paese che li fanno sentire a casa. Via libera dall'Aula Consigliare al programma di attività 2025 delle Core come il Comitato Regionale delle Comunicazioni. La risoluzione collegata passa a maggioranza, 26 voti a favore, PD, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e due astenzioni, i consiglieri della Lega. Ad illustrare le attività più importanti del prossimo anno la Presidente della Commissione Cultura. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza del progetto del patentino digitale che aiuta i giovani toscani e toscane a crescere nelle loro competenze digitali, trasversali e anche nell'acquisizione di una consapevolezza critica sulle infinite potenzialità della rete, dei social, dei mezzi di comunicazione, ma anche sui pericoli che possano venire da questi mezzi e da questi strumenti a tutti noi molto preziosi e utili. Dall'altro lato si è proposta da parte del Corecon con particolare apprezzamento l'idea di fare degli stati generali, di indire degli stati generali dell'informazione per il 2025. A questo proposito la Commissione e poi l'Aula hanno raccomandato di prevedere nell'ambito degli stati generali dell'informazione un momento di confronto con le associazioni e tutto il tessuto associativo delle componenti di genitori, insegnanti, esperti a vario titolo proprio sul tema di una riflessione critica sulle competenze digitali trasversali necessarie perché questi mezzi siano davvero utili e potenzino il nostro esprimerci come cittadini anziché poi crearci delle difficoltà. Nell'ambito di questo generale apprezzamento la proposta è stata approvata a maggioranza con l'astenzione di alcune forze politiche derivanti dalla non piena soddisfazione sull'aver realizzato un'app da parte del Corecom per diffondere meglio la conoscenza. Rinnoviamo anche questo invito ma ribadiamo l'importanza di un organismo che, benché abbia fatto molto per farsi conoscere, ancora forse la cui importanza ancora non è presente e chiara a tutti i toscani e le toscane. A Palazzo del Pegaso si festeggiano i 40 anni della rivista MCM, la storia delle cose. A raccontare questo viaggio editoriale lungo quattro decenni, Maria Cristina De Montemayor, fondatrice della rivista che tuttora dirige. Ci occupiamo di arte, di artigianato, di restauro di tutto ciò che è questo nostro patrimonio artistico enorme che abbiamo in Italia di cui questo patrimonio artistico ha tanto bisogno. Quindi parlare di artigianato perché non si perda mai il senso della bellezza e del valore delle produzioni fatte con la manualità, la creatività e la capacità e la maestria, le tre lettere della testata. Del restauro, perché bisogna anche conservarlo questo nostro grandissimo patrimonio artistico e naturalmente anche di tutti gli eventi importanti. Abbiamo seguito le celebrazioni di Leonardo da Vinci, di Michelangelo, di Raffaello secondo i tempi. Ora naturalmente ci occupiamo di Giorgio Vazzari perché sono i suoi 450 anni. Un'attenzione particolare, essendo io un vecchio giornalista, come dico sempre, un'attenzione particolare agli eventi, grandi eventi del nostro paese. L'unità d'Italia, la Firenze Capitale che hanno prodotto dei numeri speciali che hanno girato per l'Europa e per il mondo ma naturalmente anche le esposizioni universali. Ecco, tutto questo, naturalmente non in questo numero ma nei numeri che hanno percorso 40 anni di storia dell'Italia è stato raccontato. Per una rivista così qualificata 40 anni sono un bellissimo traguardo dice Cristina Acidini presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze presente alla cerimonia in Consiglio regionale. MCM è una rivista davvero speciale non solo perché nel campo delle arti decorative è tra le più accreditate, tra le più stimate ma anche perché ho visto negli anni la sistematica attenzione a due grandi aspetti la storia classica delle arti applicate o decorative e al tempo stesso l'attualità. MCM risponde sempre con grande vivacità intellettuale con bellissima documentazione a determinate scadenze che interessano la nostra città e la nostra regione. Ad aprire il convegno nella sala Fanfani la presidente del Consiglio regionale. Una rivista importante che porta in giro per il mondo la storia, l'arte, la cultura la bellezza della nostra Toscana. Per noi questo è speriamo il primo passo nel far conoscere Sandro dal mondo e ovviamente siamo emozionati ma crediamo che sia la cosa veramente giusta e abbiamo scelto anche il nome Lestro delle rivolte le rivolte è il mulino lungobarde dove abitiamo e se c'è una parola che descrive Sandro è proprio Lestro. Così Marta Dele Landise moglie di Sandro Giuliani artista fiorentino scomparso nel 2021 è raccontato adesso attraverso una selezione di opere esposte nello spazio espositivo Ciampi l'inaugurazione alla presenza dei vertici del Consiglio regionale, del Sindaco di Pontassieve e dei familiari di Sandro Giuliani un artista spiegano che ha sviluppato la sua arte in molteplici direzioni dalla xilografia alla pittura d'olio dal legno alla ceramica la mostra resterà visitabile sino al prossimo 9 novembre Grazie a tutti Grazie per la visione!